Musica Tre spettatori banna ritrovati con l'informazione di Teredi Oggone. Come già detto è stato profico l'incontro che si è tenuto l'altro ieri tra l'azienda sanitaria provinciale di Crutone e la commissione tripartita provinciale. In arrivo 50 assunzioni destinate a disabili. L'altro ieri c'è stato un incontro della commissione tripartita con la direzione generale dell'azienda sanitaria provinciale. Si è parlato dell'inserimento nelle attività lavorative dell'azienda sanitaria provinciale delle persone diversamente abili. Quando si parla di lavoro a questa latitudine l'avventura di Crutone è una cosa sacra e quindi diventa sempre l'argomento principale. Sì, abbiamo finalmente fatto un incontro molto operativo perché è un argomento questo che ho preso dal momento che mi sono insediato all'assessorato al lavoro e formazione. però grazie a tante situazioni che purtroppo si sono verificate, mi riferisco al pieno di rientro, abbiamo avuto delle corrispondenze anche con il generale Pezzi che allora era responsabile di questa situazione, non siamo riusciti ad avviare a esenza della legge 68-99 i disabili all'interno dell'azienda sanitaria che in un primo momento erano circa 60, adesso sono ridotti anche di numero perché visti i pensionamenti del personale dipendente... Per i disabili ci sono delle proroghe, per le assunzioni è possibile fare assunzioni? Allora, per quanto riguarda la legislazione c'è un po' di ambiguità perché non ci dovrebbe essere nessuna motivazione che potesse ostacolare l'assunzione dei disabili, però il discorso all'interno della sanità è stato un po' particolare ma grazie a Dio, a detta del direttore generale Rocco Antonio Nostro, è passata un po' la tempesta per cui si apre qualche spiraglio. Quindi saranno fatte delle assunzioni? Sì, io ci stavo arrivando, saranno praticamente noi già la settimana prossima richiameremo la commissione tripartita per sottoscrivere una convenzione che è propedeutica ad un percorso che finalmente abbiamo condiviso ad unanimità sia da parte della politica rappresentata dal sottoscritto che presideva appunto la commissione tripartita, sia dalla parte dell'azienda sanitaria, del direttore generale con il suo funzionario e sia dagli organizzazioni sindacali e anche dai rappresentanti di categorie che erano tutti presenti. Quindi praticamente a scaglioni verranno avviati al lavoro con un tirocino formativo che precederà la loro assunzione circa 50 disabili. No, veramente 50 disabili, non circa. 50 disabili con incarico a tempo indeterminato? Sì, con incarico a tempo indeterminato. Praticamente non verranno avviati tutti ad una voto, tutti insieme, ma verranno a scaglioni anche per consentire un po' di respiro all'azienda per l'assunzione di questo nuovo personale. L'emergenza rifiuti che continua ad attagliare la Calabria sta ponendo l'assessore regionale all'ambiente Franco Pulleano nell'occhio del ciclone. Questo che vedete non è uno spettacolo che riguarda solo la città di Crotone, magari perché se fosse solo Crotone sicuramente in Calabria la soluzione si troverebbe, invece riguarda l'intera regione. A Catanzaro, a Reggio Calabria, a Cosenza i rifiuti sono tutti per strada. Perché? Perché la pioggia dei giorni scorsi ha bloccato la discarica di Pianopoli che doveva riaprirsi ieri, ieri non si è aperta e la situazione sta precipitando. Le città calabrese sono piene di rifiuti, tant'è che c'è stata una forte polemica, un forte attacco anche nei confronti di Franco Pugliano, assessore regionale all'ambiente che ha la competenza delle discariche. E Franco Pugliano in un'intervista rilasciata all'Agenzia ANSA ha detto che non ci sono soluzioni, che l'unica soluzione è quella di dare la possibilità di aprire due discariche private, quella di Scala Celi in provincia di Cosenza, qui sullo Ioni, e quella di Cerico, sempre in provincia di Cosenza, per far confluire tutti i rifiuti che si producono in Calabria. La cosa ha già creato enormi reazioni contro Pugliano. Ci colpisce il fatto che Pugliano questa battaglia la sta combattendo da solo. Gli attacchi gli arrivano da tutte le parti e la sta combattendo da solo. Nessuno che lo difende. Evidentemente c'è una scelta politica da parte della Giunta regionale. Pugliano non è l'unico responsabile di questo dissesto. È ovvio che lui, avendo la delega, è quello che risponde più degli altri. Ma non è l'unico problema perché la Giunta regionale non ha fatto scelte diverse da quelle che gestisce Pugliano. E quindi le responsabilità sono a 360 gradi. Solo che in questo momento sul piano politico Pugliano sta rispondendo da solo. È come quel giapponese che si è messo il casco e da solo difende l'isola. Il giapponese è rimasto nella Seconda Guerra Mondiale. Evidentemente chi governa la regione ha deciso di liberarsi di Pugliano perché altrimenti sarebbe intervenuto in prima persona a difendere il suo assessore. C'è una situazione davvero incredibile, incresciosa. Incresciosa soprattutto se si pensa che stiamo per arrivare alla stagione estiva. Tra poco sarà marzo, la temperatura scalderà, aumenterà la puzza, ci sarà il percolato per le strade, ci saranno infezioni, malattie e soluzioni non se ne prospettano. L'incontro romano dell'altro ieri dedicato alla bonifica di Crotone ha dato il via come di consueto ad un carosello di comunicati di soddisfazione da parte di esponenti politici e istituzionali. Soddisfazione per qualcosa che al momento, dopo tanti anni, continua a essere solo parole. Al tempo di internet la pubblicità continua a essere l'anima del commercio. Senza pubblicità non si vendono prodotti ma anche la politica non riesce a vendere le chiacchiere. Di che cosa voglio parlare? Voglio parlare di quell'incontro che c'è stato l'altro ieri al Ministero dell'Ambiente con il Ministro Orlando. Lì non ci sono sostanzialmente grosse novità per quanto riguarda la bonifica di Crotone. Parliamo della bonifica. In quell'incontro novità di rilievo non ce ne sono state. L'unica novità è quella che il Ministro ha chiesto agli enti locali e ai tecnici del Ministero di redigere un progetto di bonifica unico. Mettetevi d'accordo e quando andremo all'incontro con Sindel Eni parliamo un unico linguaggio. Diciamo che il progetto è condiviso da tutti. Quindi prima di arrivare a quell'incontro dobbiamo i tecnici di regione, comune, provincia, ARPACAL, Ministero dell'Ambiente si devono vedere e formulare l'idea progettuale su come la bonifica deve essere realizzata. Questo è. Non è altro. Non c'è altro. E allora il Ministro ha lanciato un messaggio. Dovete cercare di marciare assieme. Invece arrivati in Calabria, arrivati in Calabria il giorno dopo è iniziato il balletto dei comunicati. Ecco perché dei comunicati che inneggiano a questo incontro al Ministero. Il primo è quello delle 13 e 23 dell'ANSA firmato dal Presidente e dalla Vice Presidente della Giunta regionale Peppe Scopelliti Antonella Stasi. Ovviamente seguito da Peppino Vallone, Sindaco di Crotone. Poi c'è, poteva mancare, c'è anche il comunicato di Dorina Bianchi, c'è il comunicato di Salvatore Pacenza, c'è il comunicato del PD. Per celebrare che cosa? Tutti questi comunicati. Per dire che cosa? Che c'è stato un incontro al Ministero e hanno avuto un incontro col Ministro. L'incontro col Ministro ci ha creato tanta soddisfazione da portare l'intero gruppo dirigente calabrese a inneggiare a questo incontro. Di concreto non c'è nulla. Ci sono solo questi comunicati. Come al solito, ogni volta che c'è un incontro al Ministero c'è la fiera dei comunicati. Si fa a gara a chi trasmette per prima il comunicato per esprimere soddisfazione dell'incontro. Di questi incontri al Ministero dell'Ambiente se ne stanno facendo ormai a Giosa. Ogni volta c'è un incontro, a partire dal 1977, da quando ci si è posti concretamente il problema della bonifica, se iniziate a ragionare sulla bonifica, ci sono stati, che poi l'anno che coincide con la chiusura ufficiale dell'Apertura sulla Sud, da allora ci sono stati centinaia e centinaia di incontri al Ministero che hanno prodotto solo comunicati di soddisfazione dei partecipanti. Siamo soddisfatti, ringraziamo il Ministro, ringraziamo, e intanto i valeni continuano ad essere stipati all'interno del porto di Crotone e nell'area industriale di Crotone. Questo è poi l'atto concreto. Due parole voglio dire sulla trasmissione delle Iene perché ne ho sentito di tutti e di più. Tutti contro le Iene, tutti contro le Iene per quella trasmissione. E che dovevano fare le Iene? Le Iene hanno messo a nudo una cosa che c'è. Forse a Crotone avremmo preferito a fare finta di niente perché ci giova. Fare finta di niente, fare finta di niente e fare morire la gente di cancro, fare finta di niente e portare sulla tavola a mezzogiorno e la sera i prodotti inquinati dalla presenza di metalli pesanti, dal pesce alla verdura alle ricotte, fare finta di niente ci avrebbe giovato di più. Certo, forse la Iene una colpa ce l'hanno, una piccola colpa, quello di non aver chiarito abbastanza il fatto che l'inquinamento nel territorio crotonese è circoscritto al porto industriale e all'area industriale. Tutto il resto, a meno che non sia stato utilizzato dall'ecomafia che ha seppellito i veleni, tutto il resto del territorio è sano. Quindi le Iene hanno solo questa responsabilità di aver generalizzato, presentando Crotone come un territorio tutto inquinato e non è così. Però bene hanno fatto le Iene a solavare il problema perché intanto erano anni che non si facevano incontri al Ministero, anche se poi lasciano il tempo che trovano se non sarà dato gambe alle cose che si dicono. Bene, fa dire perché senza quella trasmissione delle Iene che ha scosso un po' la coscienza nazionale, probabilmente non ci sarebbe stato manco l'incontro al Ministero. Speriamo che ce ne siano altre che mettono, la verità non deve fare male a nessuno, la verità è sempre la cosa migliore. Speriamo che ce ne siano altre che mettono in luce quelli che sono i nostri problemi, perché solo così riusciremo a risolvere, mettendoli, parlandone, pubblicizzandoli, avendo il coraggio di dire che le cose vanno risolte e perché sono gravi. Ieri alla presenza del prefetto di Crotone, Maria Tirone, è stato stipulato in prefettura un protocollo d'intesa tra il Presidente della provincia Stanozzurlo e le forze di polizia rappresentate dal questore Luigi Botte, dal comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, colonnello Nicola Cucci e dal comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, Capitano di Vascello Antonio Ranieri, per lo svolgimento delle attività di formazione in favore dell'istituendo Corpo di Polizia Provinciale. L'attività formativa consentirà agli agenti della Polizia Provinciale di entrare in possesso, grazie al contributo della questore di Crotone, delle necessarie competenze in relazione alle norme e alle tecnico-perimenti operative in materia di Polizia Giudiziaria, di Ordine Pubblico e di Codice della Strada. Il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato espricherà il proprio impegno formativo nell'ambito della vigilanza e della tutela ambientale nelle aree protette per il contrasto agli incendi boschivi e per il controllo dell'attività venatoria e ittica. Infine, la Capitaneria di Porto di Crotone svolgerà un programma formativo che consentirà di acquisire un completo quadro conoscitivo delle materie attinenti al demanio, all'ambiente marino e costiero, alla pesca, alla gente di mare, alla navigazione marittima, alla security portuale e alla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi e portuali, che potrà essere efficacemente messa a frutto per la tutela della riserva marina di Isola Capolizzuto, di cui la provincia di Crotone è ente gestore. La provincia di Crotone si doterà quindi di un proprio corpo di polizia che potrà contribuire al rafforzamento del complessivo dispositivo di sicurezza di questo territorio. Alla provincia di Crotone si riassumono tra le polemiche 25 persone. A tre mesi dalla scadenza, questo dicono i suoi avversari, tre mesi dalla scadenza la provincia di Crotone assume, seppur a tempo determinato, nuove persone negli staff e dicono tra le altre cose che non c'è manco il parere dei Revisori dei Conti. Ma una cosa mi sembra strana, perché io ricordo che le opposizioni, il consigliere Schifino hanno fatto una battaglia dicendo che negli uffici... Io non ho parlato di Schifino. No, no, alcuni consiglieri, insomma... Consiglieri anche dell'ex maggioranza, non è che... Consiglieri di opposizione, vecchi e nuovi, diciamo così, hanno fatto una battaglia lamentandosi che nelle stanze del Consiglio non c'erano più niente, perché c'è un unico dipendente che è rimasto, che fra l'altro è Scarriglia, che è consigliere comunale e deve praticamente in missione. Quindi c'è stata questa necessità e abbiamo più che altro fatto le persone che già per un anno e mezzo, il periodo che non è stato fatto, hanno continuato a venire gratuitamente. Quindi voi, come dire, per gli ultimi tre mesi di attività... No, non sono ultimi, sono ultimi tre mesi probabilmente, perché ancora non sappiamo, però saranno tre mesi molto densi, perché c'è da preparare tutto ciò che bisogna fare con i passaggi delle consegne e per le unioni dei comuni eventualmente da fare. Quindi era un momento, al momento noi godevamo solo sul volontariato di quelli che continuavano a venire gratuitamente. Perché non avete chiesto il parere dei revisori dei conti? Ma il parere dei revisori non... Non necessite? Non necessite in questo caso, si può chiedere anche dopo, dovrebbero essere loro fare un esposto. Tra l'altro nel fabbisogno del personale c'è la possibilità... Quante persone avete richiamato? Lei può fare il conto, dovrebbero essere tra lo staff del Presidente, quindi io e quello del Presidente del Consiglio, dovrebbero essere sei persone, poi alcuni sono part-time a 18 ore, a 20 ore, e gli assessori dovrebbero essere... alcuni ne hanno preso uno, alcuni ne hanno preso due. Gli assessori sono otto. 20-22 per 3-4 mesi, però fra l'altro è gente che ha lavorato un anno e mezzo praticamente per amicizia, quindi non c'è nulla di scandaloso o di fuori dalla norma. Si è normalizzata una situazione che purtroppo per non aver rispettato il patto di stabilità nel 2010, nel 2013 come sanzione non abbiamo potuto avvalerci... Quindi non l'avete potuto assumere prima perché non c'era il rispetto del patto di stabilità, ma oggi c'è e quindi... Certo, quindi si consente la possibilità in base al fabbisogno del personale, quindi chiaramente poi la polemica politica... C'è sempre. C'è sempre ed è pure, dico io, giusto che ci sia perché così va la politica. L'importante è che abbiano la possibilità, ad esempio il Presidente del Consiglio Proto è stato per un anno e mezzo senza... con un amico che poi è una persona che ha continuato ad andare a lavorare gratuitamente, ha dato servizio ai consiglieri, adesso al Consiglio ne daremo tre o quattro in modo che i consiglieri possano avere anche i documenti, tutto qua, ma non c'è nulla diciamo anormale. Poi bisogna considerare che negli ultimi anni la provincia ha circa 90 dipendenti in meno che sono andati in pensione e noi non abbiamo... avremmo potuto assumerne 18 stabilmente, l'1 a 5 è la barriera e non lo abbiamo fatto. Quindi si tratta del rush finale in cui dobbiamo fare alcune cose sapendo che bisogna farle e speriamo che ci sia una chiarezza se queste province ci saranno come saranno perché ancora con questo caos governativo non si sa oggettivamente che. fine faremo, però noi fino all'ultimo cercheremo di fare il nostro ruolo per lasciare le cose nella maniera più giusta. Anselmo Ventura e Massimo Caluso dell'Associazione Talastemici di Crotone in un comunicato stampa scrivono da circa un anno il servizio di microcitemia del presidio ospedaliero di Crotone ha perso il proprio responsabile perché colpito da una grave malattia. Agli inizi del 2014 anche una seconda unità medica, sempre per gravi motivi di salute, è venuta a mancare. Resta a garantire il solo espletamento delle prestazioni di base, una sola unità medica. Ovviamente ciò ha portato alla sospensione di tutte le altre prestazioni precedentemente erogate dal servizio ai propri utenti. Nei giorni scorsi il medico supestita e nonostante in preda una sindrome influenzale ha continuato a garantire la propria presenza e quindi la possibilità di mantenere operante la struttura. Al di là dell'incomiabile dedizione al dovere del medico stesso, si legge ancora nel comunicato, si può facilmente comprendere come questa situazione mette a rischio continuo, dove non si provvede a inviare presso il servizio almeno un'altra unità medica, l'operatività dello stesso. Di tutto ciò i vertici dell'aspe di Crotone sono da tempo ampiamente doti, sia perché l'assenza del responsabile perdura, come abbiamo ricordato da circa un anno, sia perché la nostra associazione ha ripetutamente richiamato l'attenzione del direttore generale e del direttore sanitario sulla questione. Dopo la perdita della seconda unità medica c'è stato un incontro con il direttore generale che aveva assicurato una rapida soluzione al problema. Da allora è trascorso un mese e tutto continua come prima, anche le richieste di intervento da parte degli operatori del servizio sembrano non avere alcuna risposta. Per questi motivi e nell'intento di tutelare l'utenza del servizio stesso, composta da adulti e minori, l'associazione Terrassemi ci ha inviato un'ennesima lettera al direttore generale, al direttore sanitario e al direttore sanitario del presidio, informandoli che si vede costrette a richiamare sulla vicenda l'attenzione degli organi giudiziari. competenti per il momento solo con un'informativa che potrà trasformarsi dove il servizio dovesse anche per un solo giorno essere sospeso in denuncia per l'interruzione di pubblico servizio. La stessa comunicazione è stata inviata al governatore della Calabria, ai presidenti e ai sindaci della provincia di Crotone. Parliamo ancora di sanità crotonese nell'intervista che segue con Salvatore Scichitano, segretario provinciale e funzione pubblica della CGL. Salvatore Scichitano, segretario della funzione pubblica della CGL, non è d'accordo con i trionfalismi che la direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone fa sul funzionamento della sanità a Crotone, sulla risposta sanitaria che viene data ai cittadini di Crotone. Perché lei non è d'accordo? Assolutamente Gaetano, c'è poco da triunfare, anzi, secondo me, e tanto che stiamo dicendo, bisognerebbe avere un po' di umiltà e dire che qui non funziona assolutamente nulla, perché ha voglia di fare comunicati stampa, ma la situazione della sanità. I trionfalismi, lei dice che i trionfalismi non servono perché poi è diversa dalla realtà vera. È diversa dalla realtà vera. Io ieri proprio una sua collega, parlando della storia, al arrivare al presente, con quelli che sono stati, non l'affossamento che ci stanno, ce l'hanno ormai tolta quella che è la sanità pubblica, la sanità in senso di assistenza. Quindi noi abbiamo contezza di quello che è il vero notriunfalismo, la vera sconfitta che è un territorio intero, è giunto fino ad adesso. Io ho delle perplessità addirittura su quello che è stata la riduzione dei posti letto e se, così come il direttore... Cioè che cosa intende dire? Per quanto mi riguarda... Che non sono stati tolti? Ci sono stati tolti, ma sono meno di quelli che dovrebbero essere su quelli che sono stati i programmi di questa direzione generale, che ha poco da trionfare, anzi lo ribadisco che i veri confronti si fanno sul campo. Dovremmo andare, e io me la sento, vorrei chiedere al direttore generale se se la sente, di andare direttamente nei luoghi dove c'è l'ammalato, di contare uno per uno i posti letto e di fare, di chiedere agli ammalati, va tutto bene? Mi sa che ci sarebbe poco da trionfare perché il direttore generale mi sa che... Gli ammalati direbbero che non va bene per niente. Secondo te Gaetano gli ammalati di nefrologia, di oncologia, di ortopedia, di chirurgia, per quello che è la carenza del personale, di quelle che sono le assistenze non date, le liste, le lunghe liste d'attesa, siamo stati in grado di renderle lunghissime. Che cosa c'è da trionfare? C'è veramente di fare il mio colpa e di dire in modo serio guardate, abbiamo perso, cerchiamo di accettare la sconfitta e di ripartire, ma di ripartire con una concezione di umiltà e dire a Crotone purtroppo non si dà nemmeno l'assistenza base, primaria, la più piccola che è quella della cura. Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che non ci sono i posti letto e a volte il pronto soccorso non riesce a ricoverare e neanche chiama i reparti e li fa andare direttamente nel corridorio. Bisogna dire che noi siamo cittadini di un'Italia che non esiste se non nel terzo mondo e andare a farci curare con tutti quelli che sono i problemi relativi alla condizione economica e di andare in altre realtà a ricoverare i nostri familiari. Questo è il trionfalismo? Ah, direttore generale, se lei ha da trionfare noi abbiamo solamente da sconfortarci. A Mesoraca, nell'ambito di un'operazione antidroga, i carabinieri hanno arrestato due persone, Vincenzo Mantia del 61 e la compagna Chissirina, cittadina rumena dell'83 per spaccio di sostanze stupefacenti. Il Mantia, vecchia conoscenza dei carabinieri, pregiudicato per precedenti specifici, già tratto in arresto con l'operazione Vicolo Stretto ed ex Sorvegliato Speciale, era da tempo monitorato dai militari poiché a seguito di risultanze info-investigative risultava aver ripreso la sua attività di compravendita di cocaina. Nel corso di un dispositivo di osservazione, i militari operanti sono riusciti ad acclarare, dopo ore di appostamento in fragranza di reato, due episodi di spaccio della coppia nei confronti di un cittadino petrilino e di un cittadino mesorachese. Nell'ambito di una campagna promossa dall'Associazione Libre Donne, Lavoro e Welfare, il prossimo 7 marzo all'Apollo di Crotone, concerto gratuito di Povia contro il femminicidio. Dottor Belmondo, Povia a Crotone, la sua tappa il 7 marzo per un messaggio di solidarietà. In effetti lui parte con questo messaggio di solidarietà, soprattutto all'inverno, ha deciso di fare questo tour teatrale che più che tour vera e propria musicale è un incontro voce chitarra, molto riservato e molto intimo col suo pubblico, un percorso che ormai nelle sue canzoni, lui è lega da anni e quindi di conseguenza questo incontro è proprio un contatto diretto col pubblico, tutto qua. Un dialogo intimo, diretto per dei messaggi molto forti però. I messaggi molto forti sono parole ormai scritte nel suo vocabolario, nel suo DNA, nelle canzoni. Povia secondo me non ha mai fatto una canzone che non ha fatto parlare di sé, nel bene o nel male, poi secondo i punti di vista. È un personaggio forse scomodo per alcuni, soprattutto per i giornalisti, ma nello stesso tempo che riesce a suscitare ancora interessi veri, poiché la sera chi avrà la fortuna di venirlo, chi di assistere soprattutto quella sera a questo incontro con Gerto si renderà conto del personaggio Povia ma soprattutto del lato umano, che è questo che lui vuole trasmettere soprattutto in questi incontri e toccare tematiche che purtroppo interessano non solo lui ma un po' tutta Italia. Katia, un nuovo messaggio, anzi sempre un messaggio sempre più forte e questa volta direttamente con Povia dal Teatro dell'Apollo per dire no alla violenza sulle donne. No alla violenza sulle donne, no alla pedofilia, no alla prostituzione minorile e soprattutto non all'8 marzo fatto come viene fatto in Calabria. Cioè vogliamo portare il rinnovamento perché Libere Donne è un'associazione che porta rinnovamento, un cambiamento e il cambiamento si fa con tutte le altre donne. Quindi noi facciamo questa serata del 7 marzo in modo da ricordare alle donne l'8 marzo di non andare a festeggiare in maniera scandalosa ma di venire al teatro un giorno prima. A fianco all'associazione Libere Donne è l'associazione Lavoro e Welfare. Il presidente è qui per dirci che sono stati loro in realtà da organizzare la serata. Certamente, è nato questo connubio già nelle vacanze di Natale dove abbiamo dato manforte per la serata dell'ebifania dove un gruppo di pediatri di Cosenza ha ritenuto opportuno omaggiare l'associazione Libere Donne di alcuni giocattoli che poi sono stati destinati nella serata del 6 gennaio in Piazza Castello ai bambini menambienti. Il proseguo ci sarà nella data del 7 marzo quando Povia sarà ospite in Calabria perché oltre alla tappa di Crotone, grazie anche alla collaborazione con il manager Elio Belmonte farà tappa anche il 9 marzo nell'anfiteatro di Nogera Terinese. Abbiamo avuto richiesta dall'associazione Libere Donne in quanto sposi in pieno questa causa della campagna che sta facendo in tutta Italia contro la pedofilia, omofobia, femminicidio e soprattutto violenza sulle donne. È un momento importante per le associazioni e soprattutto fare rete tra associazioni è un punto di forza. Certamente, infatti sto notando che nel Crotonese si stanno creando parecchi tavoli di partenariato per portare veramente avanti e sposare le giuste cause. Spero nel proseguo di avere anche maggiore rilevanza sul territorio anche con l'associazione Libere Donne che dalla mattina alla sera è impegnato in questi problemi che assilla nel territorio crotonese non so. domani venerdì 14 febbraio presso la sala Borsellino della provincia di Crotone conferenza stampa degli attivisti occupazione in Piantoeni per annunciare la prossima manifestazione. Convocato per domani alle 8.30 il consiglio comunale di Isola Caporizzuto in seduta urgente e straordinaria. Ed ora vediamo il tempo previsto per domani su Crotone e provincia. Si prospetta poco nuvoloso, visibilità buona e vento di 10 nodi, 16 gradi. La temperatura massima prevista nella città capoluogo, 8 gradi la minima ed ora il bollettino nautico del Marrionio. Tempo vento da nord ovest, forza 4 in attenuazione, locali pioggio in attenuazione, visibilità discreta in diminuzione, mare mosso in attenuazione sotto costa, tendenza. Vento da sud ovest, forza 5, parzialmente nuvoloso. Bene, la nostra informazione per oggi è terminata, grazie per essere stati con noi e arrivederci alle prossime edizioni.